E' arrivato come di consueto il nostro appuntamento mensile, eh sì, dobbiamo scoprire insieme l'importante novità che ci porta all'ultimo numero di Automobilismo. In questo mese puntati in esterno per presentare le novità della casa editrice di sport, siamo venuti proprio qui a Pero in casa di Fabio Madolo, ciao Fabio. Ciao, ciao a voi, grazie a essere venuti. Direttore di Automobilismo e di Evo, qui sulla scrivania abbiamo ancora le copie del mese precedenti, in questi giorni arriverà il numero di marzo, con in copertina ci aveva anticipato una Range Rover Discovery che è stata anche frutto di una prova approfondita da parte del vostro centro qui. Esattamente, la Discovery che si ripresenta in una veste completamente rinnovata, tra l'altro anche molto più bella di prima dal mio punto di vista, ma non solo dal mio punto di vista, e ha il pregio anche di andare molto molto bene come hanno confermato i nostri dati strumentali infatti la Discovery si è dimostrata ancora una volta, ha dimostrato ancora una volta che le Androver stanno nella direzione giusta per quanto riguarda la resa dinamica delle proprie vetture. Senti, siamo molto curiosi perché è un po' la macchina del momento e voi avete testato in profondità la Fiat 500X. Com'è andata nelle vostre prove? Ma bene, la macchina è una 500 effettivamente così, anabolizzata, che ha fatto palestra e al di là dell'aspetto diciamo estetico, comunque credo convincente, ha la possibilità di offrire molto più spazio rispetto ovviamente alla 500 normale, per cui è una macchina anche molto più versatile. Senti, di famiglia in famiglia, il mese scorso abbiamo parlato della Smart, la nuova Smart, quella a due posti, quella classica anche se è una macchina completamente nuova e questo mese è stata la volta della 4-4, la Smart è quella a quattro porte. La macchina è ovviamente più comoda della 4-2, della Smart normale e ha il vantaggio di potersi muovere in città con una certa disinvoltura. È veramente funzionale adesso con queste due porte e con un po' di bagagliaio? Sì, è più funzionale, bisognerà vedere se poi il mercato la accetterà proprio come è successo con la precedente 4-4 che sulla carta era una macchina interessante e poi in realtà il mercato non la digerì. Senti, Sport, la stagione agonistica è partita in attesa della Formula 1 e dei riscontri della nostra Ferrari, è partito il Mondiale Rally, è partito la grande per Volkswagen, è partito dove era finito l'anno scorso con una vittoria, anzi una tripletta di Polo nel Rally di Monte Carlo. Sì, noi infatti abbiamo proprio dedicato all'apertura dello Sport, a un approfondimento a Volkswagen e a quello che è successo a Monte Carlo in particolare, cioè la gara d'esordio del Mondiale 2015. L'Eub ha fatto quello che poteva, poi comunque ha picchiato duro, come si dice, in una prova speciale, ha lasciato il campo libero alle Polo che hanno comunque trionfato e hanno, come dicevi tu, occupato i primi tre gradini del podio. È chiaro che è una macchina vincente, è chiaro che probabilmente è una macchina destinata a vincere ancora tanto in questa stagione. Eravamo partiti con una fuoristrada, con la copertina Discovery, chiudiamo con uno speciale fatto sulla neve, dove avete portato delle vetture. Dove abbiamo. Dove abbiamo portato, perché anche noi abbiamo partecipato a questo servizio, sei crossover tutte dell'ultima generazione. Abbiamo fatto insieme questo gioco, che poi in realtà non è proprio un gioco, perché abbiamo comunque messo in campo 6 4x4, chiaramente differenti per fasce di prezzo, per destinazione d'uso, per caratteristiche, però tutte appunto accumulate dal fatto di essere relazioni integrali e abbiamo così verificato sul campo le loro potenzialità in chiave invernale. E ormai, come da tradizione, concludiamo la chiacchierata con Fabio Madaro, parlando anche del fratellino di automobilismo e vi riferisco a Evo. Se il mese scorso ci avevate fatto sognare con questa sfida Inzo contro la Ferrari, dunque Ferrari contro Ferrari, anticipaci quello che troveremo nella prossima copertina, dobbiamo tenere alto il livello prestazionale. E infatti così sarà nel senso che avremo la nuova Ingedity in copertina, protagonista assoluta, contrariamente a questa, dove per esempio c'erano due Ferrari molto molto particolari. Bene, ancora grazie a Fabio Madaro, lo lasciamo che deve salire dai suoi colleghi proprio per ultimare le copie che a giorni a ore saranno in idico, le ricordiamo, automobilismo di marzo con in copertina la Range Rover Discovery e qualche giorno dopo sarà la volta di Evo con in copertina la Ingedity. Grazie.